E bettori ragazzi e ben ritorno di questo nuovo video di brownies fuoco Oggi ritorneremo in miniera Lo so che può essere rischioso perché lo scorso episodio abbiamo trovato al deep dark Ma in questo episodio, raga, finchè non torniamo davanti non ce ne andiamo Quindi adesso vado nella miniera e ci vediamo quando sarò all'entrata della miniera Eccoci qua, qua vedo le torce, quindi siamo arrivati nella miniera Adesso scendiamo e ritorniamo al punto dove ci eravamo tipo accampati la scorsa volta Che in realtà era qua praticamente, cioè qua vicino In teoria dovrebbe essere di qua Perché poi ci sono andato di qua Non ho visto il ferro di qua Questo ferro lo premiamo Ecco perché, non avevo preso questo ferro Però, vabbè, niente, ho preso pure il ferro Il problema è che io non ritrovo Il punto dove devo andare Ah, forse sì, perché mi ricordo che sono sceso con l'acqua di qua, ecco Di qua con l'acqua Eccolo, eccolo di qua Ecco infatti qua io mi ero accampato Se ci ricordiamo bene Qua avevo ancora qualche cose Le robe Piccone, le robe così Ma adesso noi dobbiamo rimettere più pieno E siamo pure più forti In realtà non siamo più forti per un cazzo Però mi sento più carico Quindi facciamo così Facciamo così Perfetto Perfetto Qua c'era il live dark Me lo ricordo perfettamente Però qua, adesso visto che non ci sono Mostri Io direi di approfittarne E di mettere le torci Torce in giro Perchè di vendere questa cassa Torce in giro Torce in giro E avremo questa cassa Uh, lintenbacche Della luscave Prendiamo tutto direi, no? Guarda facciamo direttamente così Così prendiamo pure Il coso Uh, qua c'è lava Oh no Non volevo cadere, bro In realtà Due volte non volevo cadere Abba tanto che si può essere qua Io direi di fare che cosa Eh Eh, era lì No No Tua madre puttana Vabbè, adesso era allora, stronzo Eh, no Vai via Vai via Ecco Diamonds Quanti sono Uno però di qua c'è un'altra Grotta Uh, la la Ma vedo tanti davanti Oh, cazzo Oh, cazzo Rega, rega, aiuto Ci ho rischiato Oh no Se mi tocca son morto Posso prendere i miei diamantini Con calma Uh, sono tanti Quattro Cinque 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 diamantini Prima di questa resta Che non fa mai male Diciamo Uh, altra cesta Libro Inclatato con Indicita 1 Vabbè Ci sta Qua non c'è diamanti Oh, però c'è quella merda Ok, qua non c'è niente C'è uno spawner di ranni Solo che io non lo vedo di qua Eccolo Torcia Spacchiamo quale ragnatele Non tutte Perché sennò Mettiamo torcia qua In teoria Dovrebbe bastare Sì Mi sto perdendo Uh, là c'è un'altra cassa Rega C'è un'altra cassa Bella, buona Ecco Cosa ci fai qua Tò schifoso Prendiamo le cose che ci servono I binari Non me ne faccio nulla Cioè Per adesso Non me ne faccio nulla Vabbè Prendiamo qua Il sacchetto Ok Ok Non c'è niente Andiamo di qua C'è un'altra spawner qua Ok Altri diamonds Su Sento un botto di zombie Sta cosa Non è che mi piace tantissimo Ecco qua c'è l'acqua Quindi in teoria Uh Alla Vedo gli avanti Non li ho visti prima Ok Messo l'acqua qua dentro E questo chicchie Lo prendiamo quest'acqua Mettiamo qua Sperando che non ci sia nessuno Perfetto E quali sono i nostri diamonds Sperate che sono di più Ok Tra il meno due Due Solo due Solo due Un goccino di più Altri diamonds Altri diamonds Mi sa che non altri diamonds Solo due Cosa c'è di qua Cosa c'è di qua Qua non c'è nessuna parte Dicolo cieco Dicolo cieco Dicolo cieco Vabbè ritorniamo Ritorniamo da dove sono venuti Ma però qua c'è un'altra parte Altri diamonds Su Su Dai Altri Diamonds Qua c'è un'altra Spawner Ah Averso E' Spawner Lace un altro Spawner Altri diamonds Godo Godo 3 3 Diamonds Ancora Buonissimo Ah Qua si ritrova nel LipTark Ho capito Se si spawne il board Allora Altri diamonds Vediamo mai Ci sono tantissimi diamonds Però mi piace molto Quanti diamonds abbiamo? 13 13 13 ci piacciono Ci piacciono abbastanza Direi raga Cioè Non lo so Mo Provo a ritornare Al punto Di prima Sperando che non mi sono perso Poi Ci rivediamo Raga Cercando di tornare a casa Ho ancora Certo di esplorare Un pochettino Perché Devo mettere torcia Per capire dove era arrivato E ho trovato altri diamonds E ora ci riprendiamo Easy Eccoli Eccoli qua I miei diamonds E se li continuiamo A cercare A cercare A cercare Ovviamente si trova di diamonds Ve lo draga E cercando di venire Versi qua Ho trovato un'altra Cesta Con bacche Mello E pane E ferro Altre torce Che avete Me ne sono rimaste due Adesso ne sono almeno 7 Più per no Tutto quanto No Le cose Non mi interessano Pure questo Non mi interessa No I binari Non me ne frea un cazzo Medio l'arco A sto punto Vediamo Veloce Se qua c'è qualcosa No Andiamo a scuola 100 più avanti Se c'è qualcosa Altro Un'altra cassa C'è un po' Di The rest On Cocomero Che Vabbè Prendiamo Poingotiferro Cocomero E altre Rosse Che da resto Ah ma I Vagolanti Con cassa C'è C'è Vagolanti Con cassa Occupo Tutto Spazio 1 Vabbè Teniamo quelli Che ci abbiamo Qua Noi Qua Che non so Cosa Altri Diamonds Uno solo Vabbè Siamo 16 Raga Non so se puntare A fare un'armatura Ma boh Non lo so Per vedere un attimo Ancora di qua C'è qualcos'altro Di qua ci dovrebbe essere Qualcos'altro Dai gioco Fammi trovarci Diamonds Dove siamo di qua Ma cos'è ritornata all'inizio Perché mi sa che ce l'ho fatta Così a caso Così a caso Problema Sì perché qua c'è il deep dark Oh merda Vabbè mi sto salendo Adosso io ritorno Boom Sono rotto il cazzo Che sta miniera Ho già preso abbastanza materiale Direi Andiamocene via Andiamocene via Di qua Andiamocene via Completamente Da qua dentro Ho finito pure le torce Andiamocene via Andiamocene via Vaffanculo A cagare Ecco qua Senza fare neanche un po' di bridge mining Sempre qui a casa Penso di ciliamanti Direi buono Direi buono Vorrei tornare su Che sarà notte Sicuro Guarda sicuro Scaliamo questa montagna d'acqua Raga Scaliamo Uno due Uno due uomo Uno due uomo Uno due Uno due Ok Raga ci vediamo Quando sarò a forza Della montagna A sto punto Per risparmio Però qua c'è ferro Che noi alla fine Di ferro Non abbiamo sempre Ma è abbastanza Prendiamo pure Questo ferro E comunque ci Ripetiamo quando sarò fuori Dalla sta grotta Up 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 Ecco Torniamo che piove Ma seriamente gioco Ma seriamente Seriamente No ma qua non piove Qua piove Cioè qua piove Qua non piove Beh la fisica La fisica di Minecraft Comunque è sempre La più bella Sempre la più bella Adesso torno a casa E concludiamo Questo bellissimo episodio In miniera Ecco qua Siamo arrivati Praticamente Siamo arrivati Abbiamo concluso La missione Inizia morirci Dormiamo velocemente Buono Termina pioggia Termina Brucia Brutto bastardo Brucia Oh brucia Boom 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 Sca di giù Ah goglione Regà Visto che ci siamo Io direi di andare Alla fran di cactus Cioè di bombina Che qua Non credo Sta funzionando molto bene Beh non so se S'ha preso il coso Però Non è uscito Sponca Parca patosca Regà Parca patosca Io direi di fare così E prenderci un po' di semini Per vedere che Dovrebbe funzionare In teoria Un po' di semini Nel composito Nel composito Vedete regà Apparente Tutto quanto Già pronto Capito Cioè Pronto Ok regà Abbiamo altri 5 semini Andiamo a metterne nella farm Speriamo che vada Perché se no regà E palle Perché ci vuole troppo È salito Oh 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 Attenzione Attenzione Adesso però non riesco più a rimetterlo Perché Ok Ok Zoom Zoom ha funzionato il primo tipo mio Non so che si può fare in 400 modi diversi è molto meglio Ma questa qua è molto figa come fare Cioè mi piace molto l'estetica Il primo di farina d'ossa Il primo di farina d'ossa Il primo di farina d'ossa Mi ha fatto Sì Cioè è voluto Tre episodi Ma va bene Esa due però ok 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 Zoom Hashtag La fa non funziona Hashtag funziona Ragazzi Hashtag funziona ai commenti Ragazzi Questo video è finito qua Ci becchiamo In un prossimo video E ciao Ciao